Tornato in campo Clemenza ha trovato la continuità, ha ritrovato il gol, adesso non si vuole più fermare né Luca né la squadra. No, io sono contento di aver trovato questa continuità ma soprattutto sono contento dei risultati della squadra che stanno arrivando, stiamo portando a casa delle vittorie importanti e sicuramente anche domani andremo in campo per portare a casa altri tre punti. Qual è il segreto di questo nuovo cambio del Pescara da un momento brutto a un momento positivo? Ma secondo me non c'è nessun segreto, ci siamo compattati, abbiamo capito che comunque il campionato è difficile, tutte le partite sono difficili, quindi fare gruppo, fare squadra e unirsi ancora di più nei momenti un po' meno belli è la cosa fondamentale per poter poi ritrovare la serenità. Dal tuo punto di vista personale quanto è influito il fatto che Galano sia stato definitivamente messo fuori nel senso che andrà via il gennaio e quindi il posto è esclusivamente tuo? No, io questa parte non sono ritenuto a commentare tra virgolette perché comunque io cerco sempre di far bene ma per me ma anche come per la squadra, quindi non è che ho rivalità rispetto a un compagno di più verso un altro e quindi tendo sempre a dare il massimo e poi sarà il mister a fare la scelta di chi mettere in campo. Un segreto però ce lo devi svelare, il tiro alla clemenza, il gol anzi alla clemenza, spiegaci quali devono essere le condizioni affinché arrivi quel tiro che è praticamente perfetto. Vabbè dai, che deve succedere? Ci deve essere la palla, diciamo che comunque quando ho lo spazio per tirare o comunque sia mi riesco a controllare, appunto aggiustarmela per vedere bene la porta, io provo sempre a cercare il tiro o comunque sia l'assist o la conclusione, poi il tiro viene da sé, dai diciamo che se becco la porta può succedere qualcosa di bello. Domani ci riproverai? Assolutamente sì, come sempre.